la chiesa festeggia la sacra famiglia. Questa festa è istituita nel 1892 dal papa leone tredicesimo già per dare un ideale alle famiglie cristiane. Tanto più importante oggi con la destruzione attorno a noi, della famiglia cristiana e anche della famiglia stessa, di un padre, una madre e figli, ma soprattutto come focolare di santità. Dio ha voluto non soltanto che l'umanità si propaghi in questo modo con la famiglia, ma Dio ha voluto che la famiglia sia un focolare di santità, di virtù, di preghiera e di carità. Allora dopo aver meditato questi giorni su Gesù Maria Giuseppe in viaggio, poi al presepio, poi davanti ai pastori, agli angeli, ai magi, indicati dalla stella, odiati da Erode, la chiesa oggi ci invita a considerare loro nel nucleo familiare, in famiglia, le virtù di ciascuno nel contesto della famiglia. Un padre di famiglia esemplare, umile, responsabile, lavoratore, coraggioso e prudente nelle decisioni che riguardano la famiglia. Una madre femminile, modesta, devota, amorevole, via, fedele, tutta le virtù e attenta agli altri e casalinga. Un figlio obedientissimo, sottomesso, rispettoso, ma rispettoso che ama Dio più dei genitori, come nel maggior degli oggi, vediamo. Ebbene la Chiesa ci invita a imitare la virtù di ciascuno, secondo i propri doveri di Stato, ma anche come nucleo. La nostra famiglia dovrebbe riprodurre questo ideale di santità, di preghiera, di importanza della religione in famiglia, del rispetto reciproco e di spirito di sacrificio. Poi la stabilità della famiglia, stabilità del sacramento di matrimoni, naturalmente, ma anche stabilità tra le generazioni, avere la premura di trasmettere la fede alla prossima generazione, trasmettere l'educazione cristiana e avere la premura dei figli più per l'anima che per il corpo, perché ci noti nelle carità. Da un esempio concreto di questa tradizione della fede, alcune famiglie hanno un abito battesimale che serve per tutti i bambini. Ogni bambino che nasce da una generazione all'altra, mettono sempre lo stesso abito bianco, per ricordare che è la stessa fede che viene trasmessa a ogni battesimo. Per la stessa grazia, ogni bambino con battesimo entra nella stessa Chiesa, dei genitori, dei nonni e degli antinati. E poi trasmettere anche alla famiglia il senso della nobiltà. La nostra vera nobiltà è la fede cristiana, vivere in santo di grazia, essere figli di Dio. Una nobiltà che supera qualsiasi nobiltà della terra. Dove come esempio di questo è bene la dinastia d'Inghilterra, che è la dinastia, che è la storia della Chiesa che è prodotto più santi. Santi, quindi nobili, innanzitutto per la vita cristiana più che per nobiltà terrestre. Detto questo, voi dite, ma è un bell'ideale, belle cose la Sacra Famiglia, bella festa, però c'è un problema, perché non mi vedo in questo contesto, perché magari uno dirà la mia famiglia, ebbene, non c'è questa santità. Se uno ha scoperto un po' la sua famiglia, negli anni, nelle generazioni, nella genealogia, forse ha scoperto che nella sua famiglia c'è stato uno scandalo, nella famiglia non se ne parla, per loro lo si sa. C'è qualche antenato che si è comportato molto male, c'è vergogna la famiglia. Oppure qualcuno ha commesso un reato, forse è andato anche in galera. Oppure c'è stato un vizio che è stato praticato nella famiglia per parecchio tempo. Oppure, semplicemente, il sacramento del matrimonio non è sempre stato rispettato dalla nostra famiglia. Oppure, semplicemente, che non tutti sono stati fideli nella pratica religiosa. Allora, vorrei considerare con voi stasera una cosa che non avete mai considerato. Un passo della Sacra Scrittura che forse avete già sentito, però non avete notato questo aspetto. Sto parlando del Vangelo, bene, quindi il Nuovo Testamento. Sto parlando del primo libro del Nuovo Testamento, che è il Vangelo del secondo San Matteo, e sto parlando del primo capitolo di San Matteo. Quindi se aprite il Nuovo Testamento, è il primo testo che capita. Prendete questo Vangelo e leggete la genealogia di Gesù Cristo, da Abramo fino a Gesù. E avete questa genealogia, la successione di padre e figlio in queste generazioni. Già per chi conosce la Sacra Scrittura, ci sono diverse persone che non sono sapestate, virtuose o esemplari, nella genealogia di Gesù. Però, sebbene la genealogia dia la successione di padre e figlio, nomina qualche donna, qualche donna, non tutte, direi anche quattro per la precisione. Tamar, Rabb, Rut e quella che era moglie di Uria, cioè Bezzebea. Perché nominare queste quattro donne? Se andiamo a cercare nel Sacra Scrittura chi era Tamar? Tamar ricorda un episodio molto scandaloso nella vita di Giuda e patriarca. È vero che lui era padre della tribù reale. Gesù scenderà dalla tribù reale di Giuda. Però la figura di Giuda, in particolare la storia con Tamar, non è stato un esempio per niente. Rabb. Rabb è stata la donna che ha aiutato gli israeliti a prendere città di Gerico. Però, al volo, al passaggio, il Sacra Scrittura dice che questa donna era una donna di mala vita. Capite cosa vuol dire? E lei era antenata di Gesù Cristo. Rut. Rut invece era una donna buona e virtuosa, però aveva il difetto di essere pagana. È una nuova vita. Un ebreo è andato all'estero e si è sposato con una donna pagana e poi se leggete le storie di Rut, che è una bella storia, tra l'altro, sapete che Rut è diventata poi antenata di Gesù Cristo. Per un ebreo questo è un problema, perché gli ebrei sono molto razzisti e non sopportano altri popoli, altre razze. E quindi avere un antenato pagano è un problema per un ebreo, una pecca, una genealogia. E poi la storia più conosciuta del re Davide, la sua caduta con Bezzabea, ebbene, la sua caduta nel doppio peccato, poi Bezzabea è diventata madre di Salomone, che poi è diventato antenato di Gesù Cristo. Poi Salomone stesso ha fatto brutta fine, Davide non è sempre dato un buon esempio. Allora, questi casi, uno diceva se Gesù è la santità stessa, Gesù è Dio incarnato, come mai ha avuto questi antenati peccatori così? San D'Ambrogio dice così, Gesù Cristo ha preso su di sé i peccati degli uomini, ma non rifiutò la consanguineità ingiuriosa di una stirpe macchiata. E neanche la Chiesa si vergogna di essere composta di peccatori, quando anche il Signore era nato da peccatori. Gesù Cristo non voleva che qualcuno fosse indotto a pensare che una tara di origine, di famiglia, sia d'ostacolo alla virtù, neanche qualcuno si vergognasse eccessivamente delle colpe dei suoi predecessori, come se non potesse coprire la propria origine con i fiori delle proprie virtù. E' questo il fondo, cari fedeli. Noi dobbiamo essere santi anche per la nostra famiglia, anche per la nostra generazione. Cosa possiamo fare? Possiamo riparare e coprire i vizi degli altri con la nostra vita di virtù cristiana. Prendiamo l'esempio di un figlio che scopre che un genitore, padre o madre, ha fatto nella sua adolescenza, quando era giovane, uno sbaglio, una stupiraggine. E magari il figlio ha tendenza a dire, quindi io posso fare la stessa cosa se l'ha fatto papà. Questo è un falso ragionamento. Assolutamente no. E il fatto che papà ha fatto uno sbaglio, motivo di non fare lo stesso sbaglio. E anzi, imparare dal suo sbaglio e praticare la virtù contraria. Quindi se scoprite che c'è stato qualche scandalo o qualche creativo esempio nelle vostre famiglie, che sia per noi uno spunto. Grazie. 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 Grazie.